Ciao a tutti i Lopardi, siamo al Palacascina a Capello dopo la bella vittoria di Bea su Viella e con noi Ico e Rivoira. Ico, il tuo ritorno al Palaccapello, come è andata questa sera? Sensazioni in campo, una bella partita. Ma allora, sensazioni, ritrovare il pubblico di casa è sempre una cosa molto bella, soprattutto perché comunque è sempre bello pieno il palazzetto, bello vedervi e ci trasmettete sempre una grande carica. La partita, come si vede il punteggio, è una partita veramente intensa, una partita bellissima secondo me, veramente intensa, ma come abbiamo dimostrato ormai da un anno e mezzo a questa parte, quando decidiamo di far veramente gruppo e di difendere, siamo un'ottima squadra e sicuramente dobbiamo continuare così perché abbiamo le basi per far bene, siamo un ottimo gruppo, siamo uniti e questa è la dimostrazione che quando ci siamo siamo forti. Grazie, per te ancora una stagione in Maglia Bea, un inizio non semplicissimo, ora stai riprendendo, come stai e che sensazioni provi in campo? Ma guarda, purtroppo l'inizio non è stato dei migliori, visto il mio infortunio che mi ha tenuto fuori un mesetto abbondante, è stata dura perché quest'anno di nuovo gioco, io li chiamo i ragazzini, perché ormai vado per i 34, sono tutti molto giovani, quindi star lì dietro è sempre dura, però è un gruppo, è un bel gruppo. Sì, abbiamo deciso di rimanere e fare ancora un anno proprio per quello, perché stiamo bene insieme, siamo uniti e quindi era giusto dar continuità a quello che è stata l'annata dell'anno scorso, cercando di rifare un'ottima annata anche quest'anno. Grazie mille e come sempre Leopardi Pride.